Siamo con buona pubblicità per l'italiano, per venire, per fare le vacanze bene, per fare pubblicità anche per la gente, per le altre persone. La Tunisia è ora meglio di prima. Ma perché i turisti non vengono adesso? Perché tu sai, non lo so come dire, l'ultima volta, due o tre mesi fa, cosa è cambiato, il presidente, tutto questo. Capito? La gente pensa che non è calma come prima, ora è più o meglio. Adesso c'è posto, c'è posto, 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 tutto a posto ora, questa, non vedo il minarete.